E allora ho capito di essere come il sole, luce e ombra di me stesso. Sai perché sono leggerezza? La felicità, anche se non sembra, è pesante. E proprio per questo, per trasmetterla, io devo essere leggero come l'aria. Solo così posso aiutare ciascuno ad avvicinarsi al peso della propria felicità, imparando a sopportarla e a sopportarsi. Questo è il motivo per cui esisto. Un adulto direbbe, ah ma è il tuo lavoro. E uno dei bimbi maggiorenni risponderebbe canticchiando, E' un gioco, è il gioco di Peter, il gioco della felicità.